E' stato vice premier e anche in quella fase storica segretario dell'Udc, adesso Di Maio è vice premier, capo politico, lo chiamano così loro, del Movimento 5 Stelle, è più ministro del lavoro, ministro dello sviluppo economico. Troppa roba, non ha potuto gestire in questo anno il carico di responsabilità, il carico di attese forse anche che erano state suscitate nell'elettorato, sembra essersi un po' sgonfiato tutto adesso. Mi è difficile fare un paragone tra la mia esperienza e quella di Di Maio, tanto perché sono passati molti anni, poi perché credo ci sia qualche differenza tra lui e me, tra le differenze cito il fatto che lui è tutto contento di fare il vice presidente, io l'avevo fatto un po' a malincuore perché mi dedicavo più volentieri alla vita di partito e non ero poi così omogeneo alla compagine come probabilmente Di Maio sente di essere. Tuttavia c'è un momento nella vita di un leader politico che quando si sente incalzare la difficoltà, quando si sente l'onda che può sommergere, beh in quel momento anche un gesto di responsabilità nel chiamarsi fuori non è così disdicevole, spero che Di Maio non soffenda, ma questo suo rimanere ad ogni costo aggrappato ad una situazione che non è più quella, non mi sembra che parli molto a suo favore.